155 mi piace e 45 commenti E ce l'abbiamo fatta alla grande quindi veramente grazie grazie mille Grazie a tutti quelli che hanno lasciato un mi piace e a tutti quelli che hanno commentato Grazie a chiunque appunto l'ha fatto quindi grazie mille E anche la sfida di oggi è un po' difficile quindi se ce la facciamo sono veramente contento Nello scorso episodio vi ho sfidato appunto a superarla come incentivo vi ho dato il fatto che avrei fatto questo video più lungo Non vi voglio promettere i 30 minuti perché non sono sicuro se ci arriveremo Però cercherò almeno di farlo di 25 perché questo episodio lo sto registrando la sera prima che è il primo giorno di scuola Quindi non so se riuscirò a fare 30 minuti però cercherò di fare il meglio per quello non ve lo prometto Comunque cosa abbiamo fatto nello scorso episodio? Allora nello scorso episodio abbiamo finito due dei nostri progetti più nuovi Diciamo progetti degli ultimi progetti a quale abbiamo lavorato La nostra produzione di pozioni che è praticamente terminata manca solo aggiungere le bottiglie d'acqua per poterla farla funzionare Appunto finalmente al 100% E poi abbiamo completato le piccole celle e le abbiamo anche testate del nostro sistema di purificazione di zombie Che abbiamo visto un po' come funziona come viene utilizzato E appunto quello che abbiamo fatto con le celle Quindi siamo riusciti a completare due progetti piuttosto lunghi E poi abbiamo parlato di un po' degli altri nostri progetti che abbiamo al momento Abbiamo detto un po' di cose E abbiamo anche parlato un po' della prossima patch Quindi siamo riusciti a fare un bel po' di cose Soprattutto appunto questi due progetti che ci interessavano molto finire Quindi appunto ce l'abbiamo fatta e sono felice che ce l'abbiamo fatta Comunque prima di leggervi il commento del giorno Voglio dirvi che oggi ci sarà un segreto Quindi agguzzate gli occhi Spero che lo vediate perché l'ho reso piuttosto semplice L'ho già diciamo messo e scelto dove sarà Non ve l'ho ancora fatto vedere perché ovviamente questo è solo l'intra Quindi non ve lo sono ancora riuscito a far vedere ma ve lo farò vedere fra poco E ovviamente non vi dico dove essono, quale tipo di segreto è E se lo trovate potete pure dirlo nei commenti Magari aiutate gli altri a trovarlo O magari date un indizio agli altri Quindi se vi va fatelo pure Comunque voglio leggervi il commento del giorno di oggi Che è di Storm Hydra O Idra, no Hydra penso Che ci dà due idee e progetti Allora la prima idea è quella di andare a creare E come diamine sei... oh mio dio che... Cosa? Vabbè mi distraggo con gli Iron Goal ma non importa La prima idea che ci dà è una stanza Un centro informazioni per prendere e acquistare diciamo il biglietto Del nostro ipodromo per quella piccola stanzetta che vi ho chiesto nello scorso episodio E la seconda idea che ci dà invece è un obiettivo Da aggiungere al nostro diciamo piccolo villaggio che stiamo facendo nel land Che è quello di creare una piccola navicella volante Dove appunto ci mettiamo delle cose Dove ci facciamo dei test fatti dai nostri villager E lui ci dice di utilizzare gli alieni fatti con i golem di neve Quindi mi piaceva la trovavo un'idea piuttosto carina Quindi appunto ha vinto lui il commento del giorno E parlando di commenti vi ringrazio per i molti commenti che mi avete fatto nello scorso episodio Veramente erano veramente veramente tanti Quindi grazie grazie mille sapete che non c'è altro modo in cui vi posso ringraziare Comunque voglio dirvi che questo episodio sarà un episodio un po' speciale Ci andremo a preoccupare di un po' di cose diverse Forse inizieremo la nostra blaze farm Non so se ce la faremo a fare molto di essa Però vorrei provare a fare il più possibile Però non voglio concentrarmi tanto sui progetti che abbiamo al momento Quindi la prima cosa che voglio andare a fare È parlarvi un po' dei nostri biomi E di quello che andremo a fare con essi Ok allora perché vi voglio parlare dei biomi E di che cosa vi voglio parlare Allora come sapete Come vi ho fatto vedere nello snapshot qualche episodio fa E come vi ho già parlato diciamo nei vari video E probabilmente anche come sapete già Se non lo sapete ve lo dico ora La prossima patch è la 1.7 È la cosiddetta chiamata biome patch o biome update Cioè l'aggiornamento dei biome Perché in questa patch verranno aggiunti un sacco di nuovi biome Un sacco di differenze nei biome Quindi per esempio ci sono se non sbaglio due o tre biome nuovi C'è tipo la savana C'è un biome ghiacciato Che c'è tipo delle spine di ghiaccio che escono dal terreno Poi c'è tipo la foresta quella con i funghi all'interno C'è un molto... ci sono molte nuove cose possiamo dirlo Possiamo ammetterlo Ci stanno lavorando piuttosto bene a questo nuovo update E insieme ad essi ci sono anche dei cambiamenti ai nostri Diciamo ai nostri correnti biomi Quindi per esempio ci sono delle modifiche che possono accadere ad essi Ci sono dei cambiamenti ad essi Quindi quello che voglio chiedervi E quello che appunto mi interessa a me È se secondo voi dovremmo andare a portare avanti questo nostro bioma dei nostri... Questo nostro museo dei biomi No, questo bioma dei musei stavo per dire Ma tralasciamo Appunto se secondo voi ci converrebbe portarlo avanti anche con gli altri biomi Perché al momento è piuttosto alto Vediamo Se non sbaglio siamo già più o meno a... Qua siamo già a 70, sì, più o meno di altezza Quindi non mi... come diamine sono... ok Quindi non mi immagino a quale altezza arriveremo con tutti i nostri biomi Perché vediamo Se riusciamo a tornare lì sopra Possiamo magari vedere a che livello siamo già qua Qua siamo già al 93 Quindi probabilmente arriveremo più del 200 E se non ricordo male l'altezza massima di costruzione è 256, sì Quindi non so se ce la faremo a fare tutti i biomi Quindi ditemi voi Secondo voi dovremmo portare avanti tutti i biomi? Dovremmo mettere solo quelli più interessanti? Dovremmo mettere solo quelli classici? Per esempio quelli che ci siamo già segnati O che ne so c'è qualche bioma che anche magari che non esiste O che non sarà introdotto nella prossima patch Che vorreste vedere qui dentro? Non so ditemi le vostre idee Ditemi quello che pensate di questo nostro progetto Perché appunto non vorrei che rimanesse fermo così Non vorrei che ci fermassimo a che ne so Vediamo siamo 1, 2, 3 biomi Quindi non sarebbe molto bello Anzi 4 c'è anche il nether sotto Me ne ero totalmente dimenticato Quindi se avete delle idee o se avete una vostra opinione Potete pure dirmela perché Non so, non so Voglio portarlo avanti come progetto perché è piuttosto carino Lo voglio ammettere Mi piace molto E appunto non vorrei magari frenarlo con la 1.7 Perché potrebbe essere una cosa un po' brutta da vedere Perché un progetto così lasciato a metà Non sarebbe veramente bello da vedere Comunque Allora Cosa voglio andare a fare oggi dopo questa parlantina Che vi ho appena fatto Allora vorrei andare a fare un po' di obiettivi Dalla nostra casetta Come vi ho detto in un episodio un po' speciale Perché andremo a fare delle cose un po' diverse Quindi voglio andare a prepararmi tutti gli item In modo da portare avanti un po' di questi nostri obiettivi E a proposito ce ne sono di nuovi Quindi per quello che vedete più spazio occupato Ok allora Come vi ho appena accennato Ora andremo a fare un po' degli obiettivi Che sono stati inseriti in questa nostra casetta Ovviamente se ne avete altri Ditemeli pure Che li andremo ad aggiungere Appunto ai nostri tre muri Sì Stavo per dire quattro Ma poi mi sono ricordato che questo non lo contiamo E appunto Quali andremo a fare oggi? Allora Il primo che andremo a fare Sarà crafta 64 Fuochi d'artificio E me li sono scritti nella chat Per non dimenticarmeli Perché ora ce ne andremo da qua Perché ci servono degli altri item a casa In più mi sono anche scritto le coordinate Perché dovremo viaggiare fra poco E ci serviranno Quindi prima cosa Crafta 64 fuochi d'artificio Allora per farlo andremo a coordinare A combinare No? Coordinare Del gunpowder più del bomb meal Questo ci da le fireworks star Questo gunpowder l'ho recuperato dalla nostra mob farm Che ce n'era un bel po' accumulato Quindi con i fireworks star Adesso possiamo mettere i fireworks star Il gunpowder e la carta Per creare dei fireworks Cioè dei fuochi d'artificio Poi vediamo cosa abbiamo Crafta 100 torce Allora 100 torce Per craftare Diciamo 4 torce Ci serve un bastoncino E un Cioè un pezzo di carbone E un bastoncino Quindi se moltiplichiamo Quello per 4 Possiamo fare 100 torce Così in pochissimo tempo E a proposito Tutta questa sugar cane Che abbiamo qua È dalla nostra farm Che ho recuperato prima Quindi qua possiamo mettere giù Anche le nostre torce Poi abbiamo Crafta 256 frecce Allora per craftare una freccia Serve un pezzo di flinte Un bastoncino E una piuma Delle nostre galline Quindi se per craftare Una freccia Diciamo con un sistema di crafting Quindi con Un bastoncino Un pezzo di flinte E una Una piuma Ce ne da 4 Dobbiamo fare 256 diviso 4 Che dovrebbe essere 64 Se non ricordo male Dovrebbe essere proprio Un quarto perfetto Quindi possiamo prendere 64 di queste nostre Piume E portarcele via Quindi 1, 2, 3, 4 E poi riempiamo qua Ed è pieno di galline Che fanno un casino e mezzo E poi cosa ci servirà Ci servirà del flinte Che abbiamo già a casa Quindi non è un problema E poi ci serviranno Dei bastoncini Che dovremo andare a utilizzare Per appunto finire il crafting Ma non penso di avere abbastanza Legno com'è per farlo Però proviamo a farlo comunque Quindi vediamo 4, 8, 12, 16 Vediamo Dovrebbero essere 16 pezzi così Dovrebbero darci uno stack perfetto Vediamo se è vero Sì è vero Quindi ne avevamo abbastanza Senza problemi E ora ci possiamo anche liberare Di un po' di questo flinte Che ne avevamo extra Quindi è anche utile come cosa Ed ecco qua 4 stack di frecce Che ora non so come usare Perché non abbiamo Diciamo la fissa dell'arco Quindi non so come Le andremo a utilizzare Ma abbiamo completato anche quello Poi crea tutte le pozioni Allora io con me ne ho 6 Ho regeneration Night vision Fire resistance Speed Cioè swiftness Strength Forza E invisibilità Non so quante pozioni esistano nel gioco Se qualcuno di voi sa quante ne esistono Me lo dica pure Perché io non ho la minima idea Però appunto non è un progetto completato Poi crea tutte le armature Quindi non andrò a contare quelle che ho addosso O quelle che ho già craftato Perché voglio craftarle diciamo nuove Però qual è il problema con questo Con questo nostro Con questo nostro obiettivo Allora il problema È che le armature di Pelle Ne esistono molte Perché ne esistono molte Perché le possiamo colorare Quindi calcolando i 17 colori Più Quella al naturale Ci serviranno 17 Per 24 Che è il numero Di quanti Blocchi Slash item Servono per fare Un'armatura intera Quindi potete vedere che Con 24 diamanti Ho fatto un'armatura intera E con 24 pezzi di ferro Ne ho fatto una intera E in più Quella d'oro Non la andremo a contare Perché abbiamo già fatto Un'armatura d'oro Per un altro obiettivo Che abbiamo già inserito E appunto Non so come potremo andare a fare Quelle di Appunto pelle Perché Sono 16 Anzi 17 Sì 17 Per 24 Quindi fatevi un po' Il calcolo Di quanti item Di quanta pelle Ci servirà Per farlo del tutto Perché sarà un pelino Complicato E lo andremo a fare Col tempo Poi Adesso c'è Il progetto Che mi piace di più Collezione tutti cd L'ho messo per ultimo Perché l'abbiamo già fatto Abbiamo già Completato quella sfida Però mi sono sempre Dimenticato di dirvelo E di toglierla Però quello che andremo a fare Ora sarà Raggiungere le coordinate 0 0 Allora qua mi sono scritto Le coordinate Della nostra casetta In modo da poterci Tornare a casa Quando appunto Siamo arrivati là Quindi quello che Voglio andare a fare Ora è raggiungere Le nostre coordinate 0 0 Siamo a circa 1600 Quasi 1700 Blocchi di distanza Quindi richiederà Un po' di tempo E ci rivediamo Quando siamo là Ok ci troviamo Al punto 0 0 Non posso mettermi Preciso su 0 0 0 Perché è praticamente Questione di Millesimi di Appunto Blocco Quindi è una cosa Un po' difficile da fare Però potete vedere Che ci siamo Siamo praticamente Arrivati qua Siamo nel punto Dove è il nostro Punto 00 E a proposito Il punto 00 Tanti pensano che Siano lo spawn In realtà Non è proprio lo spawn È un'area Diciamo che Di solito veniva Utilizzata come lo spawn Però ora Non lo è più Perché Appunto Diciamo È un po' random Adesso Però non siamo Veramente lontani Dal nostro spawn In realtà Perché è molto vicino Anche quello Ma non Così vicino Quanto pensate Però Appunto L'idea che mi è venuta A me Appunto Per questa nostra area È quella di andare A creare un piccolo altare Che andremo magari a creare Nel futuro O quando ci interessa Per segnare Il punto 00 Quindi Questo era L'ultimo obiettivo Che ci interessava Ora torneremo a casa Perché voglio lavorare A un altro po' di cose Voglio portare avanti La nostra piramide E voglio anche andare A passare A fare un'altra cosa Quindi ci rivediamo Appena sono di nuovo a casa Ok allora La prima cosa Che voglio andare a fare È utilizzare Tutta questa nostra Sugar Canes Che ho recuperato Dalla nostra Farma automatica Trasformarla in carta E utilizzarla Per farmare Il numero maggiore Possibile Di questa nostra Di questi nostri smeraldi Perché come Mi avete sfidato voi Un po' Negli ultimi episodi Voi mi avete consigliato Di finire La nostra piramide Il prima possibile Proprio da vedere Che in realtà Di carta Non ne prende così molta Perché è già pieno Diciamo Quindi dovrò stare A sbloccarlo di nuovo Questo dovrebbe essersi Sbloccato Quindi potremo anche Riniziare a utilizzare Questo ma Lo andremo a fare Più avanti E un'altra cosa Che voglio fare Per ora È piazzare giù Di nuovo Tutta questa Sugar Canes E tutta questa carta E voglio anche controllare Se abbiamo abbastanza Smeraldi Per fare un blocco Sembra di sì Ne abbiamo più che abbastanza Ne abbiamo due extra Quindi possiamo fare Un nuovo blocco E lo andremo a posizionare Ora Ma prima Voglio recuperare Un po' di cobblestone Diciamo 1,2,3,4,5 Possiamo dire 6 stack Sì 6 bastano E avanzano Perché le voglio mettere A cucinare Perché ci serviranno Per il nostro Ippodromo Perché ci voglio Continuare a lavorare Perché ci serviranno Come prima cosa Per fare tutti i lati Che al momento Sono diciamo Fermi così E non ne abbiamo mai Portato avanti E a proposito Una piccola nota Ho dovuto riempire I nostri Come si chiamano I nostri dispenser Di 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 Call Per le nostre fornacce Perché erano quasi vuoti Comunque Appunto ci servirà Questa cosa Per poter Diciamo Portare avanti I lati del nostro Ippodromo E poter Appunto Riuscire a Portarlo avanti In poche parole E un'altra cosa Che voglio chiedervi È Secondo voi Come potremmo portare avanti La parte principale Che è praticamente L'interno Quindi Secondo voi Come potremmo fare La piccola piazzetta Che avevamo detto Che saremmo andati a fare All'interno Perché io non ho Praticamente Una minima idea Di come potremmo Andarla a fare Comunque Ora voglio andare A lavorare La nostra Blaze Farm Andremo solo A parlare di essa Non andremo a fare Molto lavoro Perché Non voglio concentrarmi Molto sui nostri progetti Quindi ci rivediamo Nel Nether Appena sono pronto A parlarvi di un po' di cose E appunto A dirvi Cosa andremo a fare Con la nostra Con la nostra Appunto Blaze Farm Come la andremo a fare Come si svolgerà E Però prima Voglio piazzare Questo nostro blocco Perché se no Me lo dimentico totalmente E Un'altra cosa Questa nostra Blaze Farm Sarà molto complicata da fare Verso l'inizio Però poi Diverenterà Molto più semplice Quindi stati tranquilli E Ora Ci rivediamo al Nether Ok Quindi La prima cosa da fare Per creare una farm Di Blaze È Proprio Trovare lo spawner Di Blaze Quindi Ora andrò Alla ricerca Nel Nether E spero di trovarne uno Non troppo lontano da casa Perché Voglio appunto Creare lo spawner Il più vicino possibile In modo che Lo posso raggiungere Senza problemi Allora So che c'è un castello Proprio qui sotto Quindi potrei essere Anche fortunato Trovarne uno qua Se non ricordo male Ce n'è proprio uno Da quella parte Del nostro Posto A proposito Sono in Peaceful Perché voglio spiegarvi Le cose Senza essere interrotto E senza appunto Stare a combattere I Blaze Perché Non andremo a creare L'intero Progetto oggi Perché è un progetto Che richiede un po' di tempo Però cercherò di fare La maggior parte Delle cose Quindi Ecco qua il nostro Il nostro Spawner Di Blaze Lo illuminerò Anche se sono in Peaceful È una cosa che voglio fare Comunque Serve molta più Illuminazione Di questa Questa è giusto Un po' di illuminazione Che ho fatto io Quindi Cos'è la prima cosa Che dovremmo andare a fare Per creare la nostra farm Allora La prima cosa Che dovremmo andare a fare Sarà liberare Tutta l'area Intorno a Appunto Il nostro Spawner Perché Perché ci servirà Di Come prima cosa Bloccare Lo spawning Delle nostre Blaze Si lo so Sembra un po' Controproducente Perché le stiamo bloccando Non dovremmo lasciarle Spawnare Per appunto Produrre No In realtà no Per ora Le dobbiamo bloccare Perché dobbiamo Trovare il modo Per poter Creare Tutto il sistema E Quello che dovremmo andare a fare Sarà andare tre Da ogni lato E poi trovare L'angolo Che ci interessa Da allungare Perché ogni spawner Qualsiasi spawner Che esiste in minecraft Ha un Diciamo Uno spawning rate Una grandezza Di spawning Di un cubo O un quadrato Di 8x8 E poi l'altezza varia Secondo lo spawner Per le Blaze È un blocco sotto Il nostro spawner Quindi un blocco sotto E due sopra Quindi sarà così E poi un blocco sotto Ma il blocco sotto È già pieno Quindi al momento Non ci interessa E un'altra cosa Che dovremmo andare a fare Sarà appunto Trovare questo angolo Che sarà Quell'angolo speciale Che avrà Diciamo Una lunghezza in più Perché appunto È l'ottavo Quindi quello Che dovremmo andare a fare Sarà trovare questo angolo Tramite le nostre coordinate Allora Per trovare l'angolo Che ci interessa Dobbiamo vedere Dove vanno I nostri numeri Quindi dobbiamo trovare Quello con La x E la y Minore Che sembra essere Questo Vediamo 3,8 e 135 Questo è 3,14 Questo aumenta Quindi questo sarà il nostro angolo Quindi questo angolo qua Sarà quello che avrà Un lato in più Per renderlo Un 8 per 8 Quindi qua Andrà l'ultimo angolo O diciamo L'ultima fascetta Tutta intorno E una volta fatto questo Dovremmo andare a riempire Tutta quest'area Che abbiamo appena creato Ovviamente per tutti i tre piani Della sua possibilità di spawning E dovremo anche togliere Tutti i blocchi Che non c'entrano Con il nostro sistema E una volta fatto questo Che andrò a fare piano piano Ma non dovrebbe richiedere Così tanto tempo Voglio andare a creare Il cosiddetto cono Che ci servirà Per incanalare Tutti i nostri blaze In un punto Dove li andremo poi a uccidere O a far uccidere In qualche modo Che dobbiamo ancora decidere Quindi Come li potremo andare A incanalare Allora Come per la nostra farm Di enderman Che abbiamo fatto nel land Dovremmo andare a utilizzare Un piccolo sistema Di pistoni E Diciamo Di redson Per poterli spingere Praticamente Quello che andremo a fare Sarà prendere Una pressure plate Metterci un Repeater In questa posizione Poi un blocco Un Pistone qua E poi un altro blocco Davanti Quindi praticamente Noi diciamo Siamo il nostro blaze Ok Io sono il blaze Voglio Appunto Vengo spanato Vado sul nostro pressure plate Boom Vengo mangiato giù E sotto ci sarà Un'altra fila Di questo nostro sistema Che li spingerà Ancora più giù In questo cono E perché sarà un cono Perché appunto Ci permette di mandarli Tutti nello stesso punto O più che altro In un 4x4 Al centro Di questo nostro sistema Da quel 4x4 Poi li andremo A incanalare A un blocco solo E da lì Li andremo poi A portare al nostro sistema Di uccisione Di O appunto Di diciamo Sterminazione Dei nostri mob Quindi è una cosa Molto molto complicata Ora abbiamo fatto Solo il primo passaggio Questo metodo Diciamo È ormai Quello utilizzato Da tutti C'è sulla wiki Di minecraft C'è Dappertutto Su youtube Quindi se lo volete Vedere più approfondito E diciamo Completo Potete magari Cercare un video Perché io lo andrò A fare molto Molto piano E cercherò Di farlo Diciamo Il più piano possibile In modo da non fare errori O cose del genere Ora voglio vedere Se qua è Dov'è il nostro spawner Perché non mi ricordo Dov'è Dovrebbe essere Ok È un blocco E uno a fianco Ok perfetto E appunto Lo voglio segnare Giusto per ricordarmi Che è qua Quindi qua magari Mettiamo un nether brick Al posto della terra Giusto per Ricordarci dov'è E ora voglio Lasciare così tutto fermo Perché sarà un progetto Che andremo a continuare Nei prossimi episodi Perché come avete capito Richiedereà un bel po' di tempo Materiali E lavoro Per appunto Completarlo Comunque Ora voglio andare A lavorare Un'altra cosa Che è anche questa Piuttosto interessante Che vi ho Diciamo detto Nello scorso episodio Quindi ci rivediamo Nel nostro mondo E appena sono pronto A continuare Ok allora Quello che voglio andare a fare Ora è Continuare E portare avanti Gli achievement Che si sono Resettati Allora come qualcuno Allora come qualcuno Mi ha detto Nei commenti Dello scorso episodio Non potremo Andarle a fare Tutti Perché certi Dovrò Cittare Per farli Per esempio Quello del nostro Drago Dell'Under Dragon Dovrò andare a citarlo Perché non c'è altro Modo di combatterlo Perché l'abbiamo Già battuto Poi per esempio Questi del Enchenter O queste cose qua Dovremo andare a farle In qualche modo strano Per appunto Completarle In più Prima di passare ad altro Voglio anche farvi vedere Che sono riuscito Finalmente A Prendere il Silk Touch Sono stato adesso Una mezz'oretta Nel Nether Nel land Scusate A farmare XP Quindi quello che voglio andare a fare È metterlo su questa picca Perché ci servirà Per prendere diamanti Per fare l'achievement Diamonds Non Sono sicuro Perché l'ho messa Comunque Vabbè Ci serviva comunque Però Lì ci dice Nell'achievement Di romperla Con Un Tool Di ferro Quindi l'ho presa qua Non so se conta Quando rompiamo il blocco Però ci voglio provare comunque Però Prima di passare ad altro Voglio fare un po' di altri Diciamo Achievement Quindi Uno è Cucinare un pesce Un pesce Un pesce Ok Non so Nemmeno parlare oggi Sarà che È un po' tardi Ma non importa Quindi cuciniamo il nostro pesce E nel frattempo Voglio prendermi Un bucket Anzi Tre bucket E recuperare un po' Di latte Da questa nostra mucca Sì Le nostre mushroom Ci danno anche il latte Per chi non lo sapeva Quindi ecco qua il nostro pesce cucinato Abbiamo appena preso l'achievement Possiamo mettere via tutte queste cose Ora voglio craftare il pane Che è un altro achievement Lo so È un achievement molto semplice Ma non importa Poi voglio craftare una torta Che l'avevamo già creata Avevamo già preso l'achievement Ma come sapete Si sono resettati Quindi ecco qua La nostra torta E vediamo Quali achievement Ci mancano ora Allora abbiamo fatto tutti questi Dobbiamo andare a uccidere Una mucca Se non ricordo male Ne abbiamo un po' Qui sopra Nella nostra piccola farm Quindi non dovrebbe essere Un problema Ucciderne Se ne abbiamo solo una O due Non importa Ne andrò a prendere altre Poi Quindi uccidiamo una Di queste nostre mucche Sembra che ne abbiamo Solo due Quindi potrebbe essere Un problema Magari recuperiamo Un po' di No di carbone Di grano Così possiamo Farle Innamorare E avere comunque La terza diciamo Di salvaggio Salvaggio non è una parola Ma non importa Quindi Lasciamo stare È troppo tardi Sono troppo stanco Ok Capitemi dai Lo so che mi potete capire Poi domani è il primo giorno Di scuola A proposito Buona fortuna Buona fortuna Tutti quelli che hanno già iniziato Se avete Interrogazioni o cose del genere Buona fortuna Io fortunatamente Non penso di avercene Quindi facciamo innamorare Le nostre mucche Dateci il nostro Piccolo caro mucchino Così posso uccidere Una di voi Sembra un po' Una cosa crudele da fare Farle innamorare Per poi ucciderne una È la cosa più cattiva Possibile Quindi uccidiamo una mucca Ecco qua Cautipper Abbiamo preso anche quello Ora dobbiamo fare When pigs fly Questo è uno Piuttosto difficile Lo andremo a fare Nel futuro Poi uccidi uno skeleton Con una distanza Di 50 metri o più Ok Questo potrebbe essere Un po' complicato Quindi quello che voglio andare a fare È recuperare un diamante In modo che possiamo Passare agli altri achievement E voglio anche provare A colpire Questo nostro Danato scheletro Che con la mia mira Sarà un po' difficile Quindi ci rivediamo Fra poco Ok allora Ho recuperato il diamante Ho portato qui sopra Uno di questi nostri Maiali Tramite il meccanismo Quello con l'acqua E con la corda Poi mi sono craftato Una carrot Una stick Che è questa Diciamo Canna da pesca Con una carota Sopra Diciamo Poi ho trovato il diamante Quindi ho fatto anche L'achievement del diamante Abbiamo quello del We need to go deeper Che è quello di creare Un portale del nether Poi abbiamo Ho fatto quello del Monster Hunter È stato estremamente difficile Perché non sapevo Quanti erano 50 metri Secondo il gioco Penso siano 50 blocchi Ma non ne sono sicuro Poi qua abbiamo degli altri Che non possiamo Veramente fare Per ora Perché l'enchant Dobbiamo craftare Un enchantment table Non mi va molto Di sprecare cose Per una cosa Che non ci serve E poi questi Si devono ancora Diciamo sbloccare Poi questo qua Del drago Non lo possiamo fare Perché appunto L'abbiamo già battuto Però possiamo battere Il nostro maiale Quindi mettiamo lì La nostra cosa Che io ho già dato Ora il problema È riuscire a farlo saltare Quindi proviamoci Vediamo se ci dà il cosa Si when pigs fly Ok perfetto Siamo riusciti a prendere Anche quell'achievement lì Possiamo ridare La nostra sella Al cavallo E vediamo Quale altro progetto Possiamo fare Possiamo fare Quello del nether Mi sono portato Il flint and steel Apposta Per farlo Andrò semplicemente A rompere un blocco E a ripiazzarlo Giusto per Appunto vedere Se funziona così Se non funziona così Mi sa che lo andrò A rompere del tutto E lo andrò Appunto a riposizionare Speriamo che funziona Solo con blocco Perché sinceramente Non mi va di minare Tutto questo obsidian Anche se è piuttosto veloce Perché abbiamo la super picca Quindi diamoli fuoco Vediamo se va Se ci dà Il nostro cosdo del nether Non sembra avercelo dato Magari quando ci teletrasportiamo Nel nether Forse può darcelo Si eccolo qua Ok We need to go deeper Perfetto Ok ora che abbiamo fatto We need to go deeper E ho fatto un piccolo taglio Perché dovevo pensare Un po' di cose Ma non importa Ho contato quanti Di questi nostri achievement Ci rimangono Sono 1, 2, 3, 4 Questo non lo contiamo Perché è praticamente impossibile 5, 6, 7 e 8 Quelli più difficili Sono probabilmente Quello di ritornare La palla Quella del nostro ghast Con un colpo Quindi quello che cercherò di fare Sarà rimandagliela E appunto Dropparci Una Come si chiama? Ghastiar Si si chiamano Ghastiar Che a proposito Ci serviranno comunque Quindi questo lavoro Lo dovrei fare comunque Ma è un po' complicato Appunto Ricolpirli con la loro stessa palla Quindi ci vorrà un po' di tempo E probabilmente io muoio Perché non sono il migliore A giocare a Minecraft Diciamo così In modo Normale In modo Diciamo di combattimento Quindi non so se ce la farò In più sta distruggendo Praticamente tutto il mondo L'ho preso Si Ovvio Ok Basta scleri Ce l'ho fatta Ok Pensavo fosse estremamente difficile Ma ce l'ho fatta anche Mentre registravo Quindi sono piuttosto felice E ora Quanti ce ne rimangono? Ce ne rimangono 7 Di cui certi Non li andrò a fare Per esempio In center Per ora non andremo a fare Poi Into Fire Dovremo andare a uccidere una Blazerod Quindi dovrò andare al nostro spawner In modo da Ucciderne una Ma mi dispiace dirlo Per questo episodio è tutto Perché siamo già Oltre ai 26 minuti 27 Penso anche 28 Non ne sono sicuro Però come vi ho detto Non vi ho promesso i 30 minuti Perché non sarei stato sicuro Se sarei riuscito a farle Oppure no Si è fatto un po' tardi Per me Perché domani C'ho il primo giorno di scuola E non vorrei svegliarmi Alle 11 Aver perso il primo giorno Quindi spero che questo episodio Vi sia piaciuto Mi dispiace che non siamo riusciti a fare 30 minuti Ma ci siamo arrivati Oh mio dio Perché proprio davanti a casa mia Ma ci siamo arrivati piuttosto vicini Quindi sono contento di dove siamo arrivati E nulla Per questo episodio è tutto Io spero che vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace Commentare Iscrivervi E lasciare un mi piace Lasciare un commento Se volete aiutare la sfida di oggi Vi ricordo che più mi lasciate Più mi piace Più commenti fate Più diciamo Mi spinge a fare video Quindi grazie mille Per tutti quelli che lo fanno Sempre O quelli che lo fanno spesso Quindi per questo episodio è tutto Io spero che vi sia piaciuto Vi ricordo di dire il segreto Se l'avete visto E nulla Con questo saluto Bella raga Qui danno